Contorniamo la nostra serie per 100 cripto gemme e ti porto oggi un progetto veramente molto interessante che si chiama Kylin Network. Kylin Network è un oracolo, o almeno la funzione principale è oracolo all'interno del mondo di Polkadot e che opera tramite parachain. Andremo a vedere tutte le sue funzionalità, quello che implementa attraverso il white paper e cercheremo di capire se è un buon investimento. Detto ciò per chi non mi conoscesse mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di criptovalute e investimenti. Se è interessato a questi tipi di contenuti valuta di iscriverti al canale per non perderti altri video come questo. Inoltre ti chiedo di mettere mi piace a questo video se lo trovo interessante in modo da aiutarmi a crescere qua su YouTube. Ti ricordo che tutto ciò che dico all'interno di questa rassegna ma in tutti i miei video è pure scopo divulgativo e non è assolutamente un consiglio finanziario. Per ultimo ho un canale Telegram in cui parlo appunto di queste criptovalute, di queste gemme, di launchpad e di tutto le opportunità che mi passano sotto naso e quindi te lo lascio qua sotto in descrizione. Ma detto ciò cominciamo subito con questo video e andiamo a schermo. Passiamo subito a questo progetto che è uno dei progetti che trovo più interessanti attualmente per quanto riguarda il mondo di Polkadot e andiamo a vedere appunto di che cosa stiamo parlando. KID in generale possiamo definirlo un oracolo. L'oracolo, diciamo la categoria degli oracoli di cui fa parte anche Chainlink, sicuramente il più famoso, o Band Protocol, ha lo scopo appunto di implementare i dati al di fuori della blockchain, quindi dati reali, naturali, all'interno della blockchain perché è un servizio, come capite bene, necessario per il funzionamento della blockchain. La blockchain deve sapere cosa sta succedendo al di fuori della blockchain, nel mondo reale. E per fare questo serve un servizio e il servizio è questo qua, quello degli oracoli. Ma Kylian non farà solo questo e andremo a vedere tutte le feature che vuole implementare nel suo progetto. Kylian si riferisce appunto al mondo di Polkadot e quindi agirà come una parachains all'interno della relay chain. Per chi non sapesse cos'è la relay chain non è altro che appunto un anello che connette tutte le blockchain in modo tale da farle cooperare all'interno dell'ecosistema di Polkadot, come c'è anche su Kusama in realtà. La cosa interessante di Kylian è che potrà operare con tantissime blockchain ed essere utilizzata come punto di riferimento per quanto riguarda il mercato dei data. Ma andremo a vedere un attimo di che cosa stiamo parlando. Per farlo ci appoggiamo a quello che è il white paper. Il white paper ci fa vedere, adesso non ve lo sto qua a guardare tutto, comunque ve lo lascio in descrizione ma lo trovate tranquillamente nel sito in docs, white paper. Andiamo a vedere che ci sono quattro sostanziali cose che implementa Kylian. Il Kylian Data Marketplace, Kylian Data Oracolo, Kylian Data Analytics e il Kylian e i Kylian Token. Sostanzialmente partiamo dall'oracolo, l'oracolo che abbiamo già parlato, quello che fa sostanzialmente portare dei dati esterni all'interno della blockchain e qua non c'è nulla da dire. Kylian Data Analytics sostanzialmente è una funzione che avrà Kylian di appunto gestire le analytics dei data. Perché come abbiamo già visto con Covalent oppure con il funzionamento di The Graph, quello che vuole fare Kylian è implementare questi tipi di funzionalità all'interno del mondo appunto di Polkadot. Il Marketplace non è un altro punto che un punto di scambio di data. Cioè dobbiamo pensare che il Marketplace in questo caso è sostanzialmente un metodo per scambiare i dati come vediamo qua, is Open Platform for Data Exchange and Pricing. DApps, quindi le applicazioni su Polkadot, possono creare su Polkadot in modo facile ed efficiente e collezionare appunto dati off-chain, quindi fuori dalla chain e in-chain solo pagando appunto una fee competitiva. Questa cosa del Marketplace dei dati è una delle cose più interessanti secondo me che ci sarà nel mercato del domani. Il mercato di data è uno dei mercati più interessanti secondo me che secondo me non può fare altro che evolversi nei prossimi anni. Sappiamo bene come il mercato dei dati anche di fuori dalla blockchain ricopre un ruolo molto importante e all'interno delle criptovalute in cui è tracciabile tutto proprio come su internet ma anche con le funzionalità della blockchain secondo me questo si amplifica ancora di più. Quindi secondo me il mercato dei data è una cosa molto interessante e che è una delle pre-ex che vale la pena tenere d'occhio. Inoltre abbiamo appunto il token nativo della piattaforma che è appunto KILungaL. Come vediamo il token è necessario per la sicurezza e la forza della decentralizzazione del network appunto e verrà usato per la governance e le utilities e le other utilities. Inoltre qua sotto c'è uno schema molto interessante per vedere come funzionerà. Cioè arrivano appunto i dati dalle blockchain di data, market data, social data, verranno archiviati, potranno messi a essere nel marketplace, nell'oracolo e KILung Analytics che appunto gestirà queste cose qua. E poi vediamo come KILung si potrà collegare a tutte le altre applicazioni e mandare appunto quello che le altre applicazioni richiedono. Per ultima cosa vi faccio vedere alcuni schemi per quanto riguarda il sito principale. Come vediamo qua ci sono già le cose di cui abbiamo parlato. Andiamo in basso e vediamo dove questi dati potrebbero essere utilizzati. E in realtà i dati vengono utilizzati da qualsiasi parte. Vediamo Decentralized Insurance, Automatic Payment, Stable Coins and Crypto Derivatives, Crypto Asset Landing Platform, Crosschain Decentralized Exchange, Crosschain Decentralized Exchange, Decentralized Casino and Games e Blockchain Computer Market. Dobbiamo ricordarci sempre che per esempio la DeFi o anche banalmente le Stable Coins sono molto collegate con i dati reali. Pensiamo alle Stable Coins classiche che chiamo USDC e USDT si dicono peggate al dollaro e il dollaro è un valore che è al di fuori della blockchain. Per fare questo vengono utilizzate delle modalità, dei servizi che importano il valore di istante per istante del valore del dollaro all'interno delle blockchain. Perché se no quelli token non potrebbero replicare il valore del dollaro. Quindi i dati al di fuori appunto della blockchain sono veramente importanti per il funzionamento stesso della blockchain. Vi faccio vedere come il progetto ha una capitalizzazione di 38 milioni ed è veramente piccola in realtà come progetto. E attualmente si può scambiare appunto su gate.io, Uniswap, UU che non ho mai sentito sinceramente, OX Protocol, 0X Protocol e Uniswap V3. Andiamo avanti vi faccio vedere un attimo di analisi tecnica e quindi vi faccio vedere su CoinMarketCap perché appunto non l'ho trovato. Vediamo come il grafico sta creando una conca subito dopo l'uscita del progetto che è stato appunto aprile-maggio del 2021. Ha creato questa conca del prezzo cercando di trovare il fair value appunto del token. E attualmente stiamo un pochino recuperando questi valori. Ora, ripeto come ogni volta, l'analisi tecnica in questo caso serve solo per capire più o meno come siamo messi ma non deve essere preso troppo seriamente perché c'ha troppa poca storia questo grafico per poterne valutare i pattern perché appunto non ha nemmeno 6 mesi, anzi no, ha un pochino più di 6 mesi. Unica cosa vi faccio vedere, si si può vedere che appunto abbiamo un massimo decrescente e che appunto sembra creare diciamo un triangolo equilatero nell'idea in cui appunto rompa o rialzo o ribasso. Per quanto riguarda invece in generale vi ricordo che questi tipi di investimenti secondo me valgono per il lungo termine quindi non terrei troppo conto dell'analisi tecnica, anzi in realtà tutta questa requast come è una buona buy proprio per il fatto che siamo ai minimi rispetto al massimo che abbiamo avuto all'inizio del lancio e quindi ricordo sempre che sono investimenti, opportunità di investimento a lungo termine quindi non terrebbero troppo conto del prezzo attuale. Vi faccio inoltre vedere appunto i backers che ci sono dietro a Kyling perché potrebbe essere interessante anzi in realtà sono molto interessanti. Vediamo che abbiamo Credit Suisse che è una banca, Wobby Capital, abbiamo JP Morgan che comunque hanno anche collaborato alla creazione di questo progetto, non sono solo investitori, Clover, abbiamo Serenetwork, abbiamo Wharton University, John O'Pinkins University vediamo che le università danno un ruolo diciamo di ricerca, di innovazione in questo progetto però come vediamo ci sono dei nomi molto importanti anche dal punto di vista proprio di investimenti proprio Wobby Capital anche. Quindi i backers secondo me è abbastanza approvato e secondo me nel futuro ne arriveranno sempre di più. Andiamo adesso a vedere i social e vediamo appunto come è messo il progetto a livello di marketing. A livello di marketing come tutto diciamo l'ecosistema creato dalla Web Free Foundation e quindi parliamo anche diciamo di Polkadot non tiene secondo me troppo conto del marketing perché la loro filosofia di lavoro è appunto non cercare di mostrare ma di lavorare sui progetti di rendere i progetti sicuri, affidabili in modo tale che la gente li utilizzi piuttosto che concentrarsi sul marketing. Detto ciò vediamo che appunto la pagina di Kyling ha 58.000 follower il che la rende comunque una pagina molto piccola e appunto abbiamo qua il sito, il canale Telegram che ha appena 13.000 membri che è veramente piccolo come progetto. Quindi morale della favola diciamo il marketing è fatto bene diciamo anche se comunque è un progetto che deve ancora nascere che ripeto infatti non menti in questo tipo di rassegna cerco di partire i progetti che devono ancora nascere proprio per il fatto di sfruttare appieno in anticipo questi tipi di opportunità. Quindi in generale vi ricordo che questo progetto deve ancora nascere quindi 58.000 follower per il progetto che attualmente è veramente poco ma appunto perché il progetto ha solo 38 milioni di capitale e deve ancora nascere perché appunto deve ancora appoggiarsi alla Polkadot, alla relazione di Polkadot. Per concludere questo video appunto ti dico che Kynes secondo me è un progetto veramente molto interessante ho visto diverse interviste per quanto riguarda i founders che appunto parlavano di questo progetto e sono veramente bulli su questo progetto. È uno dei progetti in cui credo maggiormente nel lungo termine che possa fare bene proprio per il fatto che il settore delle oracoli secondo me è uno dei settori più importanti per quanto riguarda le criptovalute. Detto ciò a voi le vostre considerazioni e ditemelo qua sotto nei commenti quindi fatemi sapere se per voi è un buon investimento, se non lo è e soprattutto perché. Metti mi piace a questo video se vi trovate interessante iscrivetevi al canale per non perderti altri video come questo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!